Riascolterete Nu Peccatore, dirige l'orchestra il maestro Gianni Aterrano, canta Toni Astarita! TAPE! 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Preghiera che cercano perdona, perdona a te Che sei sole abbandonata con me Teranu Pagnota con me Taranu Pagnota con me ? Per me Non c'è da pace a vato rinna d'utè C'è la mamma da stella S'iemaste l'acrima C'è voglio mannà Tony Astarita Tony Astarita E diciamo... Quindi allora nu peccatore, altra coppia quella di Nino Fiore e Tony Astarita al secondo posto assoluto. Grazie. 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 Grazie.